C'è un mondo entusiasta di questi cinque giorni che andremo a affrontare assieme. La novità di questa comunità 3 è che oltre a legare due giorni di stage, faremo anche insieme tre giorni di concorso. In questi ultimi anni ho anche scoperto che il modo migliore per essere incisivo è parlare di cose vere, cose vissute. Tante volte non è un degrado saltare una gara bassa, ma la dobbiamo impostare un po' come in training per il concorso. Ho avuto un ottimo colloquio con ognuno di loro e abbiamo stabilito già, seguendo il programma di gare, cosa fare in linea di massima. E spero che andrà tutto nel verso giusto.